Rimpasto? No, ampliamento. E quanto sarebbe stato deciso in una riunione di maggioranza dell'amministrazione comunale di Teramo? Il sindaco, Gian Guido D'Alberto, dopo aver atteso un anno e mezzo, ha deciso di cambiare qualcosa e lo farà subito dopo le festività natalizie. L'ampliamento della giunta, che farà salire il numero degli assessori a nove, non prevederebbe uscite dall'esecutivo in carica, ma due nuovi ingressi. I due nomi sarebbero quello di Giovanni Cavallari, attualmente all'opposizione con il gruppo Bella Teramo, da lui fondato e ideato, e di Rosalba Marinelli, candidatasi con la lista al centro per Teramo, che fa capo a Mauro di Dalmazio. La Marinelli non è entrata in consiglio comunale per un pugno di voti e verrebbe in questo caso ripescata in giunta. La nomina d'assessore della Marinelli si renderebbe indispensabile per mantenere le quote rosa in giunta e porterebbe all'ingresso in maggioranza, già paventato abbondantemente nel tempo, della lista di Di Dalmazio. A Cavallari potrebbe venire affidata alla delega la ricostruzione, mentre alla Marinelli non è escluso che venga affidata quella al bilancio, essendo la stessa una commercialista. Con questo assetto la maggioranza di D'Alberto sarebbe blindata con numeri bulgari che garantirebbero tutto il mandato senza nessuno scherzetto o rivendicazione di alcun chi. Quello che stonerebbe, nel caso, sarebbe quello del numero degli assessori. Nove, roba da primo Brucchi. Proprio allora il centrosinistra dei banchi dell'opposizione tuonava contro il sindaco e la maggioranza di allora dicendo che Teramo non poteva permettersi nove assessori, che erano troppi e che se anche la legge lo permetteva era uno spreco assoluto, soprattutto perché frutto di inciuce e di accordi. Chissà cosa direbbero adesso quelle stesse persone, una di queste proprio il sindaco D'Alberto, dall'esterno si osservassero una manovra simile da parte della maggioranza. Certo, lo scopo potrebbe essere anche incomiabile, quello di alleggerire le deleghe di Stefania Di Padova e Valdo di Bonaventura e di garantire un'amministrazione duratura alla città. I costi, però, sono sempre gli stessi, cioè quelli di Brucchi e, come allora il detto, ah già, fa quello che il prete dice e non quello che il prete fa.